Nell'albergo di Via Veneto che l'ha ospitato nel suo soggiorno romano, George Michael racconta di fronte a una platea di giornalisti e di curiosi che cosa pensa del pubblico italiano, colto con un calore giudicato sorprendente anche dai più smaliziati osservatori. Grazie a tutti i italiani sono una delle più grandi audience in Europa.